Pardot Kainz, ecologia di Bela Tegeuse, rapporto preliminare all'impero. La più alta ragione d'essere dell'ecologia è la comprensione delle conseguenze. Pardot Kainz, il rinomato ecologo dell'imperium, è stato convocato dall'imperatore Herod IX, sul pianeta capitale Caetan. Il regnante ha in mente di affidargli un importante incarico, ma prima vuole conoscerlo. Dal canto suo Pardot non sa il motivo dell'invito, e i 15 guerrieri Sardaukar che lo stanno scortando, sono di poche parole. L'uomo al contrario è logoroico, è agitato, parla praticamente da solo. Non è mai stato su Caetan, in un mondo tanto solenne, meraviglioso. No, lui ha trascorso la maggior parte della sua vita in deserti, paludi o luoghi contaminati in cui la gente scappa, nessuno vorrebbe andare. Mentre ora, inaspettatamente, si trova nel lusso. Lo hanno perfino profumato e vestito bene, come un nobile, per l'udienza con l'imperatore. Ma continua a chiedersi, che cosa vorrà da me Herod? Pardot si sente un alieno in quel mondo politico e civilizzato, in cui le persone sono subdore e leccapiedi. Se potesse, vorrebbe essere altrove, da solo, in solitudine, su qualche pianeta estremo, a prendere appunti, ad apprendere nuove conoscenze sull'ecologia, sulla scienza. Per quanto eleganti, non c'è nulla da imparare sui pianeti sviluppati, su quelli troppo civilizzati. Certo, Caetan è sicuramente uno spettacolo urbano, e lui stesso ne è ammaliato. Non ha mai visto in vita sua nulla di simile. Ne ammira le architetture, i palazzi, che hanno i soffitti tempestati di gioielli. La musica, l'arte, è bellezza ovunque, è raffinato, Caetan. È tutto molto bello, sì, ma lui nemmeno da ragazzo si è mai interessato alla pittura o alla lirica. Perché perdere tempo con tutte quelle cose, quando c'erano così tante scienze naturali da apprendere, da studiare? Beh, ma allora, perché l'imperatore l'ho convocato? Pardot si guarda attorno. Il clima di Caetan è artificiale. Ma non è che vuole discutere con me dell'ingegneria climatica. Certo, è piacevole avere cieli limpidi e un clima sempre stabile. Ma un ambiente artefatto può causare danni alle persone. È un po' come vivere in una lussuosa prigione. Alla lunga può indurre problemi alla mente, al corpo, allo spirito. Possibile che l'imperatore voglia parlare con me dell'ingegneria climatica. Ma è strano che alla famiglia imperiale interessi di ciò. A loro interessa l'apparenza. Che poi ciò possa causare problemi di natura umana. È secondario, non gli interessa. Perché mi hanno convocato allora? Pardot se lo chiede per tutta la strada fino al trono. È arrivato lì, seduto al centro del leone dorato. Vede un uomo scarno. Piccolo. All'apparenza malconcio. Insignificante. Cainse è la prima volta che vede l'imperatore. Se lo immaginava... Beh, è diverso. Invece è soltanto un uomo anziano, piccolo, dalla voce esile e stridula, che tuttavia potrebbe distruggere un pianeta soltanto ordinandolo, soltanto schioccando le dita. C'è una forte contraddizione tra l'aspetto fisico e il potere politico di Ero del Nono. Ed è un contrasto così evidente che Pardot lo guarda sballordito, dimenticando per un attimo chi ha davanti. Non sapere nemmeno che cosa dire, cioè... Come si saluta l'imperatore? Salve, buongiorno mio signore, ci si inchina, ci si mette in ginocchio. Chi parla per primo? Io o lui? Quali sono le usanze accorte? Cainse non lo sa. È evidentemente impacciato, è goffo, è impreparato a parlare con un uomo tanto potente e solenne. Ma Erod lo guarda rilassato e gli rivolge un sorriso compiaciuto. Ah, il planetologo Pardot Cainz. I miei consiglieri hanno esaminato molti candidati prima di sceglierti fra tutti. Il rapporto dice che sei una persona curiosa, più interessato alla scienza che alle smancerie di corte. Sei cresciuto sul mondo prigione Salusa Secondus e anziché odiarlo ti sei appassionato alla sua storia. Hai scritto libri sull'ecologia del pianeta. Tu, Cainz, sei stato riconosciuto come un vero lettore di mondi. Sei capace di analizzare e capire ecosistemi complessi e le tue capacità sarebbero utili ai bisogni del mio impero. Ti ho scelto per una missione speciale, per recarti sul pineta desertico Arrakis, dove metterai in atto la tua magia, le tue abilità. E qui Pardot è subito, entusiasta. Non si aspettava una proposta simile. Era lì completamente all'oscuro. E sta faticando a contenere lo stupore. Arrakis, sì, il pianeta che i Fremen chiamano Dune. Dune per i nativi, il centro dell'universo, il centro del melange, la sua origine. No, non ci credo. E mentre l'imperatore continua per l'appunto a parlare, la mente di Pardot è già nel deserto, è già tra le dune. Sta pensando a cosa fare una volta atterrato sul pianeta. E non gli interessa più nient'altro. Ma Erod prosegue in tono grave, riportandolo al presente, si fa sentire. Perché Arrakis è uno dei pianeti più scradevoli e al tempo stesso più importanti dell'imperium. Tu sai sicuramente che è l'unica fonte di spezia. Nessun ricercatore ha mai compreso il melange o lo ha mai trovato su altri mondi. Non sappiamo in che modo si formi o come possa essere ricreato. E tu sarai l'uomo che lo scoprirà per noi. La crisi è causata da Bulur d'Alcon e nascosso l'impero. Ed è di vitale importanza comprendere il segreto della spezia. Fino a questo momento nessuno ha speso tempo per conoscere il suo mistero. Arrakis pareva una riserva inesauribile di melange. Ma gli eventi, ahimè, hanno dimostrato il contrario. Non possiamo permetterci un collasso. La spezia deve essere abbondante. Per Dot Kainz tu ci aiuterai a ristabilire un equilibrio. La spezia è usata in grandi quantità dalla gilda spaziale, dai nobili dell'impero, dai Mentat, dal Bene Gesserit. Chi controlla la spezia controlla l'universo. E da oltre 4.000 anni il protettorato di Arrakis avviene per mandato imperiale. Come saprai, una famiglia nobiliare viene selezionata dall'imperatore per un massimo di 100 anni. E negli ultimi 40 anni il pianeta è in mano agli Arkonen. Prima Dimitri, poi a Bulurd, ed ora è brutale Vladimir Arkonen. Ma sebbene io sia in disaccordo con i suoi metodi brutali, non posso espormi politicamente. Beh, dottore, il mio potere poggia su delicati equilibri. Alleanze, burocrazia. Soltanto tu, Pardot Kainz, puoi spezzare questo ciclo. Scopri ciò che puoi su Arrakis. Inviami a regolare i rapporti. E scopri il segreto della spezia. Kainz a queste parole sta fremendo di gioia e di entusiasmo. Certo che lo farà. Certo che vado. È l'opportunità più grande della mia vita. C'è un solo e unico problema che lo preoccupa. Gli Arkonen. Vladimir. Rabban. Sì, Arrakis è un loro dominio. E nonostante l'imperatore abbia messo delle disposizioni, Vladimir non sarà felice di avere un osservatore imperiale che si aggira libero nei suoi territori. Quindi Pardot dovrà stare attento. Dovrà muoversi con cautela, collaborare con gli Arkonen, non calpestargli i piedi. Dovrà scendere a compromessi e facendo attenzione per appunto a non attirare la loro ferocia. Ma a parte ciò, Pardot Kainz è il settimo cielo e non vede l'ora di partire verso il pianeta desertico Arrakis, ovvero Dune per i nativi Fremen. Io sono Naib Emilio Valotti e ringrazio i mei feda Ikin, Riccardo, Marco, Giovanni e Diego per il loro aiuto. Popolo del deserto, che Shaiulud vi protegga. Grazie a tutti.